E' importante ogni tanto creare dello spazio solo per noi, non per me, ma per noi, che poi diventa un modo per recuperare il tempo perso, i momenti passati lontani, per affrontare i discorsi non fatti. Sono questi attimi che non scorrono via veloci e che rimangono nel cuore, avere la possibilità di passare un po' di tempo insieme, genuino, sereno, in disparte. Siamo stati a mangiare dove di solito si va a mangiare con il nonno, riconoscendo gli angoli e i dettagli, trovandosi a proprio agio nella classica trattoria bolognese, con i suoi colori e i suoi odori, con la tradizione che si associa alla calorosa accoglienza. Sembra di essere in famiglia, di mangiare con coloro che si ha attorno, mentre guardo Isaac mangiare e crescere sempre di più, come un adulto che per fortuna ancora non è. Ma continuiamo a guardarci e a scambiarci piccole saggezze a vicenda, a fare racconti che possono nascere solo lì. Sono momenti preziosi, che come ho detto considero un lusso, ore che seminano ricordi nel campo della vita, che andranno curati, fatti crescere, mentre guardo lui diventare sempre di più. Siamo stati bene, insieme padre e figlio, dove di solito vado con il mio di padre. Conserviamo una tradizione, ne inauguriamo una nuova realtà, ed oggi è bastato pochissimo per regalarmi molto, moltissimo.